Un weekend pieno che necessariamente dovrà dividere sostenitori e semplici curiosi che il 5 novembre esprimeranno la propria preferenza alle urne. A causa del cambio di programma, il segretario nazionale del PD Matteo Renzi, in sostegno di Fabrizio Micari, si è recato oggi a Catania. Ad annunciare sui social la toccata e fuga siciliana del segretario PD, che in origine doveva essere a Palermo, è stato il sottosegretario alla salute Davide Faraone, che seguirà poi Renzi a Napoli per Italia 2020. La conferenza programmatica del PD. Renzi anticiperà quindi Beppe Grillo, che sarà nel capoluogo domenica, e Matteo Salvini, che arriverà lo stesso giorno per fermarsi fino al 3 novembre. È stata rinviata invece la visita di Silvio Berlusconi, prevista per l'1 novembre, il giorno di ogni santi. A raddoppio i 5 stelle, che saranno presenti a Catania e poi a Palermo, sabato e domenica. Secondo Gianfranco Cancelleri, quella di Berlusconi che non va più a Catania, è una marcia indietro per fuggire dal confronto con Beppe Grillo e perché a Palermo c'è Gianfranco Miccichè. E prosegue, sono curioso di sapere se ci sarà pure Musumeci, che sembra quasi non contare più nulla, succube della sua coalizione. Musumeci, a proposito degli stanziamenti promessi dal governo nei confronti di dipendenti, dei precari Aras e dei enti locali, punta il dito contro il centro-sinistra. Ministri e assessori fanno a gara per promettere prebende, ha dichiarato. E' un lurido mercato che offende la dignità e l'intelligenza dei siciliani, che certamente non si lasceranno ingannare dalle trovate di un PD disperato. Per Claudio Fava, il coordinatore di articolo 1 MDP, Roberto Speranza, in Sicilia da oggi fino a domenica. Prima tappa a Palermo oggi pomeriggio, al Rouge Noir poi a Carini, mentre domani si sposterà nel Messinese e infine domenica a Catania. Grazie a tutti.